cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori bentrovati al meteo l'alta pressione è protagonista e regala ancora tempo stabile e mite il dettaglio di giovedì 15 febbraio sul veneto avremo un ampio soleggiamento specie sui rilievi sulle zone pianeggianti al mattino sarà la nebbia ad impedire al sole di splendere a seguire invece maggiori rasserenamenti temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi massime tra 11 e 12 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso cielo poco nuvoloso nelle ore notturne saranno possibili delle foschie o locali nebbie sulle zone di laguna e sulla pianura pordenonese al confine con il veneto temperature minime sui 3 gradi massime intorno ai 10 13 gradi infine diamo uno sguardo al trentino alto adige sarà abbastanza soleggiato ma con nubi alte innocue in transito temperature minime sui 2 gradi massime intorno ai 16 dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità senza uso di antibiotici direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori grazie per la vostra